Hey sono tornato, si con un video attesissimo da tutti Prima di tutti sono Occhio di Purfebretterana e me lo avete chiesto tantissimi Ma che fine ha fatto Faris? Ma cosa ne pensi di Faris? Ma come è andata a finire con Faris? Anche al Games Week me lo avete chiesto in tantissimi Ma prima voglio spiegarvi perché ho deciso di fare questo video Perché sono una persona di parola e cerco di aiutarvi E se vi dico che una cosa è una truffa è perché so quel che dico E perché cerco di proteggervi E questo video non è la dimostrazione perché Andiamo a vedere a distanza di tempo tutte le bugie di Faris Smentite da se stesso perché chiaramente erano tutte bugie Ma al tempo la gente magari non mi credeva Ma dopo questo video penso che ci sia poco da non crederci Ma calma, facciamo un riassunto perché non tutti sanno quello che è successo Chi è Faris? Se non lo conoscete non vi siete persi assolutamente nulla Perché è un truffatore che si spaccia per un programmatore mondiale O di fama mondiale o come cavolo vuole definirsi E che fa video su YouTube di fantomatici, glitch e bug Dei guarda caso giochi più famosi del momento Che vanno di moda, che fanno tante views Da quei ragazzini che credono alle sue bugie Un paio di mesi fa circa sui 20 di aprile Non mi ricordo adesso esattamente la data precisa Ma circa il 20 aprile Avevo fatto un video dove spiegavo che non esistono metodi per fare V-Bucks gratis E che esistevano canali truffa Che pur di fare visual sulla gente che crede a queste cose Si inventavano procedimenti stranissimi e altre cose Tra cui specialmente il canale di Faris Non era un video contro Faris Era un video dove dicevo Eh ci sono tanti canali che dicono cavolate Fanno credere che si possano fare V-Bucks gratis Tra cui Faris Perché? Perché lo faceva già dai tempi di Clash Royale E io ce l'avevo con lui già dai tempi di Clash Royale Ma non ero l'unico Perché altri canali Tra cui Dragonstick, Robizona Anche Mr. Hyde Hanno fatto video diciamo contro questo truffatore di Faris Quindi non è una cosa che me la sono inventata io Probabilmente magari anche qualcun altro ci ha fatto i video Ma io non lo so Io ho citato un paio di nomi Chiaramente uno come lui Desideroso di views e pubblicità gratis Non vedeva l'ora di fare un video contro di me In risposta alla mia piccola frase Perché per me non è stato proprio una cosa indirizzata a lui Invece lui l'ha sfruttata per farmi un video contro da 22 minuti e passa In questo video diceva che il 13 maggio sarebbe uscita la sua fantomatica applicazione Che avrebbe permesso a chiunque di ottenere un sacco di V-Bucks assolutamente gratis Con questa applicazione che generava codici per sbloccare V-Bucks Però per riceverli bisognava essere disiscritti al mio canale e bisognava essere fedelissimi al suo canale Inutile dire che quel video come tutti gli altri suoi video hanno dal 17 alle 19 pubblicità Chiaramente In questo video inoltre diceva che mi avrebbe tolto tutti gli iscritti Che tutti si sarebbero disiscritti da me E un sacco di altre cose che sono chiaramente tutte stupidate Dette con un italiano poco italiano Sicuramente un'altra lingua Ma per fortuna l'intelligenza ha battuto la stupidità E perciò la gente è rimasta iscritta Infatti noi ora contiamo 170.000 In quel periodo eravamo circa 90.000 iscritti Un po' come lui è adesso Che è rimasto tale e quale Ma lui non bastava e ha fatto un altro video uno dopo l'altro Diciamo sempre per parlare di questa fantomatic app Sempre per andare contro di noi Ma poi cos'è successo? Ah l'app è uscita ma non funzionava Perché bisognava sbloccare i server a livello globale E lui l'avrebbe fatto solo al raggiungimento dei 30.000 like sotto il video Però ovviamente il video non ha mai raggiunto i 30.000 like Perché la gente ignorante in queste cose Ignorante dal punto di vista che non sa che sono bugie È per fortuna Per fortuna è meno della gente che invece è intelligente Che capisce che certe robe sono delle bugie Chiaramente lui i server non li ha mai aperti Chiaramente la cosa si è andata via via diluendo La gente si è dimenticata Ma io non mi sono dimenticato Io non ho detto bugie Io sono qui a dimostrarvi che la sua app Alla fine non è mai esistita e non farà niente Anzi vi dirò di più Addirittura il programmatore che lui ha ingaggiato Per fare la copertina di questa app Che lui mostrava sempre una foto di una fantomatica app Bruttissima Cioè proprio qualcosa di schifoso Fatta comunque da un'altra persona addirittura Questa persona qua si chiama Eucalyx E aveva anche un canale Ha fatto il video contro di Fares Dove faceva vedere tutte le chat tra lui e Fares Mi ricordo di aver fatto anch'io una live sul canale di Eucalyx Dove mostravamo le chat tra lui dove si mettevano d'accordo Per questa realizzazione Per dimostrare quanto falso fosse Chiaramente mostrare le chat e corrispondenza privata È roba illegale Ma siccome Fares l'aveva fatto 20 volte prima Mostrando addirittura le chat con me E con altre persone Appunto nella pagina pura fibra italiana eccetera Abbiamo preso la libertà di farlo lo stesso Perché se l'ha fatto lui lo facciamo anche noi Chiaramente contro di lui No con altre persone che non c'entrano nulla Addirittura Fares ha fatto un video dove diceva di essere andato a denunciare Eucalyx alla polizia postale Per questo fatto di aver mostrato le chat Perché si è fatto anche la foto con la sua mano tatuata Per dimostrare che era lui davanti alla sede della polizia postale E per far paura ad Eucalyx in modo che ritirasse tutti i video e tutte le accuse Però io conosco Eucalyx Ho il suo numero adesso E non gli è arrivata nessuna denuncia Guarda un po' Insomma Fares è un insieme di bugie Che non si sa come si tengono in piedi Grazie a quelle poche persone comunque ignoranti Che continuano a seguirlo Continuano no perché il suo canale è un po' Iiii Non fa più video perché tutti i video dopo che diciamo ha litigato con noi Gli sono andati parecchio parecchio male La gente si è svegliata La gente ha capito E che quindi il suo canale non è che va molto oltre Io sono più che sicuro che lui sfrutterà questo video per fare di nuovo Ripartire il suo canale Sfruttando la pubblicità che questo video gli farà Ma a me non me ne frega niente Perché tanto sei già un poveretto devastato E il tuo canale Cioè la gente prima o poi si sveglia e capisce Insomma sono contento che il canale di Fares Ora non vada più Lui non fa neanche più video Perché probabilmente si è rotto Perché la gente non li guardava più O lo offendeva e basta E lui non è riuscito a far stare in piedi tutta la sua bugia Adesso andremo a vedere proprio il suo canale Smenteremo bugia per bugia Le varie cose che ha detto Che aveva promesso Tipo l'app che esce il 13 maggio Ora siamo già Non so neanche che giorno sia Il 10 di ottobre E la sua app non esiste E andremo a vedere altre bugie che lui ha messo in piedi Che fanno sembrare incredibile di tutto Ma che in realtà sono solo stupidate E quindi eccoci qua sul canale Allora partiamo subito dal vedere da quando Fares Diciamo è stato colpito da noi Da 5 mesi circa ad aprile Come vedete questo qua è l'indice tra dislike e like Infatti vedete che dopo che il canale è stato colpito Lui ha avuto un calo drastico Cioè ha avuto un incremento di dislike assurdo Perché come vedete 83% 72% 87% 73% Vedete che gli segna in rosso e in arancione Questo perché appunto sono molto negativi Addirittura qua il 58% Quando ha fatto finta di andare a denunciare Diciamo a Eucalyx il suo programmatore Poi tra l'altro Cioè ci sono così tante Ma così tante cose A cui non si può credere Partiamo da una cosa Sei un programmatore mondiale Almeno tu sostieni di esserlo E quindi sai hackerare le peggio cose Non sai hackerare YouTube Per trasformare il tuo canale In un canale super di successo Partiamo da questo Eh perché YouTube invece è difficilissimo da hackerare Sì sì invece Fortnite no Che è solo il gioco più famoso del mondo Vabbè vabbè Poi Poi Sei un programmatore mondiale Sai hackerare ogni cosa Le copertine non le sai fare In italiano non sai parlare Vabbè Vabbè Cioè vabbè Ma queste sono cose Che chissene Cioè Faris Knight V1.0 beta Baia meno pura fibra italiana 55.000 visualizzazioni 5 mesi fa Io però Stapp non l'ho più vista Stapp non c'è Lui ha fatto delle live Dove praticamente regalava delle keys Ecco qua la live Vedete Un programmatore di fama mondiale Che non riesce a settare bene un green screen Che lui sembra un cadavere Da com'è illuminato e robe Guardate qua le scritte Tutte tagliate Che non sa settarle Eppure sa hackerare le peggio cose Vabbè Vabbè Cioè strano Strano Chiaramente sono competenze differenti Che non hanno nulla a che vedere una con l'altra Ma magari sono io Che pretendo troppo Voglio dire Sai Ci sono migliaia di ragazzini Che riescono benissimo a settare Due scritte fatte bene Invece lui no Allora Lui qua regala in live Delle key Da 5 barra 10 euro Allora Partiamo dal fatto Che se tu fai un'app Che regala key Cioè regala V-Bucks gratis e robe Non hai problemi a regalare V-Bucks Da 100 euro 50 euro Cioè Eppure non lo fa Perché? Vi spiego subito perché Prima della live Vado alla GameStop Compro Un tot di keys Da 5 barra 10 euro Che tanto Non mi interessa Nel senso che Ci spendo pochissimo Ci spendo 25 euro Mi prendo Una key da 10 E tre key da 5 Perfetto Quattro key In totale Da distribuire All'interno di un'ora Di live Perché alla fine Lui non è che ne regalava Una ogni minuto No Ne regalava una Ogni 20 minuti Quindi se Andate poi a contarvi Quante ne regalate Scoprirete Che non è che ha speso tantissimo Mettete che ha speso 20-30 euro Se vogliamo essere generosi Ora Facciamoci due conti Quanto ha guadagnato lui Con YouTube però Sicuramente di più Perché la gente Guarda ste live Guarda ste video Apposta Per prendere sta key C'è la pubblicità E cose Quindi in pratica Lui va a rifarsi il guadagno Quindi non gliene frega niente Di spendere sti 30 euro Se poi ci saranno Migliaia di persone stupide Che andranno E si seguiranno Tutta la live Pur di prendere una key Da 5 euro Che lui Si è andato a comprare Prima per far la live Perché se vedete Lui non è che ne dà Costantemente Ripeto Se io avessi Soldi gratis Proprio No vabbè Soldi no Ma se io avessi caramelle Un sacco di caramelle Che proprio Non ce la faccio più Ma io ve le regalo Ma ve le regalo subito Cioè proprio Mi metto a fare così E vi regalo le caramelle E invece no Lui Che tanto le genera Come niente No ne dà Cioè ne dà pochissime E le dà tutte Da 5-10 euro Chiaramente Non andava a spendere 100 euro 50 euro 100 euro 50 Eh no Eh no E invece E probabilmente Chi ha ricevuto Stecchi da 5-10 euro Non erano suoi amici Con account fasulli Pagati O comunque A cui dava Sti 10 euro Poi i loro amici Gli ridavano 10 euro Nella vita reale Cioè E poi guardate Questo sito Vi sembra un sito Di un programmatore mondiale Cioè ve lo faccio vedere Io ho un sito Vedete un sito Fatto bene Lo vedete Che figo che è Cioè guardate Le grafiche Come si muove Guardate Questo è un sito Fatto bene Vedete un sito Fatto bene Guardate un sito Fatto bene No Guardate che figo Cioè Devo Devo continuare E questo invece Dovrebbe essere Il sito Del programmatore mondiale Chissà quanto lo pagano Per fare questi siti Stupendi Neanche nel 2000 Quando internet Era appena uscito Quasi C'erano sti siti Così belli Ma andiamo a vedere Sto fantomatico Shop Delle sue applicazioni App Bug Clash Royal Info 100 euro Scontato da 150 E' una vita App per giochi Più plus PS4 Xbox One 300 euro Sì sì Sponsor su youtube 100 euro Ma per favore Farei di tutto Per non essere sponsorizzato Lezione di programmazione Privata Scelta A parte che non si capisce niente Comunque l'ordine In cui sono messe queste robe Cioè perché qua c'è Dello spazio bianco Completamente vuoto Qua le cose non sono in ordine Cioè fa schifo Guardate qua Vedete Perfetto Finisce uno Iniziala Perfetto Programmatore mondiale Non si capisce niente App App Bug Fortnite Funzioni app Funzione fly Camminare sottoterra A parte che a casa mia fly vuol dire volare Quindi in pratica Cioè si vola Se proprio Vedere avversari attraverso i muri Funzione antiveleno Non si sa cosa sia la funzione antiveleno Ma Ce lo Trova Trova kit medici e armi Grazie Grazie Normalmente si trovano le kit medici e le armi In lavorazione Vabbè Assolutamente mai fatto Mai niente di tutto ciò Ma basta seguirlo per una settimana su Instagram Tanto lui fa tantissimi contest Tantissime robe Mai fatto una volta Ma ve lo dico perché nel periodo in cui Chiaramente noi Eravamo Sotto attacco da lui in tutti i modi Tramite Instagram Tramite altre cose Lo seguivamo Quindi sapevamo quello che faceva Ora ci ha bloccati Anche se non nei nostri profili privati Quindi Non è proprio svegliissimo Infatti ci ha bloccato La pagina pura febbre italiana Ma non ha bloccato i nostri profili privati E comunque Mi sono creato un account fake apposta Che lo segue E che appunto serve a questo Ma lui non lo saprà Io non lo so C'è gente che ancora sicuramente gli crede Ancora sicuramente Gli piacciono le sue bugie Io non ho problemi Ognuno è libero di seguire Chi vuole Chi gli pare Chiaramente Io vi ho solo dimostrato A distanza di tempo Come il suo canale 1 È andato sempre più in basso Basta guardare Basta guardare le visualizzazioni Di tempo Prima Contro Dopo Di come i suoi video Siano tarocchi Siano spesso ingannevoli Per esempio Glitch come fare 50 kg A partita sfornite Glitch come fare 70 kg A partita sfornite Sfruttava dei bug Col carrello O con la macchina Per entrare dentro la mappa Il problema È che lui diceva Ecco da qui potete uccidere tutti Uno non lo faceva vedere Sapete perché? Perché se lo avesse fatto vedere Se avrebbe ucciso qualcuno Da sotto la mappa E quel qualcuno L'avrebbe segnalato Il suo account sarebbe stato Bannato immediatamente E lui avrebbe perso Tutti i soldi Tutte le skin Tutte le robe Chiaramente Lui È furbo In maniera negativa Ma non è proprio stupido E quindi non è che Uccide la gente Da sotto la mappa Quindi Ve lo ripeto Io ho chiuso Con questa faccenda Sia chiaro Non me ne prega più Niente Anche oggi ringraziamo La pura fibra Nella strum qua Grazie mille Se vi siete iscritti Noi siamo già in 170.000 Cresciamo sempre di più Commentate con quello Che ne pensate voi Di Faris Perché io con questo video Ho chiuso Ho detto la mia Cioè ho detto Tutto quello che avevo da dire Su Faris Non penso di avere Altro da dire Se avete altre cose da dire Aggiungetele nei commenti Se avete altre cose Altre bugie da smentire O altre cose Su cui lui si è contraddetto E robe Ditelo In modo che Altra gente Veda il video E dica Ah ma allora Non devo credere Alle cose che dice Perché guardate ragazzi Io sono qua E vi dimostro la verità Palese palese Lui È lì E parla E parla E parla Ma di verità Non ne ho vista neanche Cioè non ne ho vista neanche un po' Ma neanche un po' Condividete il video Con i vostri amici Con cui avete seguito Un po' tutta la faccenda Di Faris e robe E lasciate un piace E noi ci vediamo Ad un prossimo video raga Ciao Ciao